Però cerchi di capire, dottoressa, perché io me ne sto andando in esaurimento per tutto il mare problema che devo gestire, che poi lei non mi deve vedere così cioè, lei mi sta vedendo così e va bene, cioè, io sono, cioè, non so se se ne è fatto un'idea. Calma, 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 e l'ho fatta sdraiare apposta per farla rilasciare, che cosa, insomma ho capito che lei è, però qua non importa, l'importante è che faccia un bel respiro si lascia andare e mi racconti tutti i suoi problemi e vedrà che insieme li risolveremo, eh? Tutti i miei problemi, eh, dottoressa, ne ho tanti di problemi che io stesso non so da dove devo incominciare. E facciamo una cosa, eh? Cominci dal principio. Vabbè, allora, in principio ho creato la terra. Ho visto che era una cosa buona e giusta e ho detto, sì al mare, il mare.